Per la vostra sfida eliminazione cucinerete nella sede del US Open. L'Open è uno dei campionati di tennis più prestigiosi nel mondo. I giocatori seguono una dieta ferrea, il che vuol dire cibo sano e molto energetico. Chef, prendete un tubo di palle da tennis. Per favore, estraete una palla dal tubo. Arancione. Squadra arancione. Gialla. Squadra arancione. Gialla. Vi scontrerete in una partita di tennis culinaria. Servirete i vostri piatti uno alla volta, testa a testa. Se il vostro piatto vince nella battaglia testa a testa, la squadra guadagna un punto. La prima squadra che arriva a quattro punti vince la partita. Dovete anche dimostrare di saper fare della strategia. Vi giocate prima il piatto forte? Oppure lo conservate per la parte cruciale della partita? Andiamo da Woolf Foods. Io e Tiffany andiamo al banco del pesce. Mi dà 12 sgombri? Chiamerò il mio piatto pesce affumicato. Sono sicuro che i sapori staranno bene. Abbiamo tre ore per preparare tutto nella cucina di US Open e sento che siamo un ottimo gruppo. 11 minuti. La zuppa di pomodoro e tamarindo è deliziosa. Mancano 10 minuti, vado a controllare i miei gamberetti e sono davvero cattivi. Quindi corro a cucinare un altro po'. Che cosa è successo? Ho macellato i gamberetti. Quando siamo entrati nel campo da tennis, mi sono sentito come un gladiatore che entra nell'arena. Arrivano i giudici e la nostra squadra è pronta come giusto che sia. È il momento della partita. Ok, Spike. Per favore, mostrate il primo giocatore. Fabio, sei stato nominato, sei il primo della sfida. Ci sono, ci sono, ci sono. Ragazzi, chi va? Ci guardiamo fissi negli occhi. Ragazzi, dobbiamo andare. Allora decido di andare io. Non mi importa, vado. Ok, va per prima Chesi. Va Chesi per prima. Vai, Gialli! Ho il piacere di presentarvi il nostro ospite speciale, il tennista professionista Taylor Dent. Dicci cosa hai fatto, Fabio. Ho fatto degli gnocchi di grano con bianco d'uovo invece dell'uovo intero e del finocchietto arrostito, zucchine e un assaggio di costoletta di maiale. Io servo del filetto di maiale alla griglia. Prima messo in salamoia e poi grigliato. Un'insalata di farro, ciliegie fresche e vinaigrette. Grazie. 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 Grazie.